Martínez ancora bel dribbling, tiro di Martínez e c'è il gol che gol che ha fatto che gol che ha fatto Martínez bellissima questa percussione personale e fanno festa i giocatori del calcio agri Bellanza abbattuto che gol Martínez sulla fascia sinistra una percussione, si è accentrato un dribbling e un bel tiro a liberare